Ogni anno in Europa vengono individuati 250.000 nuovi casi di valvulopatia mitralica, ma le diagnosi troppo spesso sono tardive. A Lecce si è tenuto il Mix 2022, il congresso biennale della Mitral Academy, che ha riunito in Puglia esperti internazionali di cardiochirurgia e del trattamento della patologia mitralica. Obiettivo analizzare le prospettive scientifiche del futuro, dalla diagnostica precoce per immagini alla chirurgia mininvasiva. Giuseppe Speziale, presidente del Mix e della Mitral Academy. Siamo quest'anno a Lecce a voler significare che la cardiochirurgia al sud è ancora molto più forte rispetto a tanti anni fa e che offre i risultati eccellenti anche in termini di mininvasiva e all'avanguardia su questa valvola. Nel 2019, ultimo anno pieno di operatività prima del covid, in Italia ci sono stati oltre 35.000 interventi di valvolo plastica o sostituzione della valvola, con operazioni sempre meno invasive. Ora si guarda le tecniche transcatetere e transascellare alla direct view e alla robotica, che permette ai chirurghi di guidare bracci meccanici con maggiore precisione ed estrema accuratezza. Il futuro è già adesso, perché molti interventi sulla valvola possono essere effettuati in mininvasiva, quindi senza l'apertura dello sterno. Oggi è possibile rioperare molti pazienti che tanti anni fa erano giudicati inoperabili per le condizioni fisiche e anche di fragilità in generale. Attraverso la mininvasiva è possibile dare un intervento della stessa qualità con meno trauma e con maggiore possibilità di recupero. Quindi sicuramente questa è la strada giusta per poter trattare le valvole isolate di mitrale degenerativa. Con l'Italia che si pone avanguardia nel panorama internazionale, Ettore Sansavini, Presidente e amministratore delegato di GWM Care and Research. Il successo della cardiocirurgia in Italia si deve a due elementi. Uno, la capacità di fare sanità nel campo cardiocirurgico da parte del pubblico, ma in particolare anche il privato. consideri che il gruppo che rappresento io effettua interventi di cardiocirurgia per il 13% di tutta la cardiocirurgia italiana. Oggi noi in Puglia abbiamo tre centri di cardiocirurgia con dei livelli di eccellenza. A Bari dove ci sono gli ospedali Antea e Santa Maria e nel Salento con il Città di Lecce.